Come si tratta di una squadra? Aspettavo molto di più da ognuno di loro, sicuramente come aspetto di impatto la partita, come aspetto di voglia di sfruttare l'occasione che avevamo viste anche alcune altre situazioni di altre squadre, quindi siamo mancati in questo, ma è normale che i responsabili sono anch'io, oltre ai ragazzi che vanno in campo, questo è chiaro. Sicuramente lo svolgimento che dovevamo fare e le situazioni che dovevamo mettere in campo erano altre, quello forse come un po' tutti è l'ultima delle soluzioni, la palla lunga, quando non ci sono altre soluzioni. Non abbiamo avuto quella lucidità per fare altre soluzioni che dovevamo fare, questo sì, perlomeno con costanza e quindi ci siamo, non dico quasi sempre nascosti sul lancio lungo, però non siamo stati così precisi, lucidi e qualitativamente proprio nelle giocate bravi per poter fare quello che dovevamo fare. Quindi poi la soluzione migliore, forse o più pratica è quella di mettere palla sopra e rischiare meno in alcune situazioni. Cosa che abbiamo fatto, ho provato a fare alcune giocate e ci sono costate a volte la punizione, vedi il gol, a volte altre ripartenze della squadra avversaria, quindi diciamo che vorremmo mettere un grosso macigno sopra questa partita e chiudere e dimenticarla il più in fretta possibile, visto che abbiamo domani l'opportunità per poter rispondere sul campo per quelle che sono le nostre caratteristiche, la nostra voglia e quello che dobbiamo fare per far sì di tornare a fare i tre punti. Sì, questo è vero, infatti il cruccio più grande è questo, quello che non ti fa dormire la notte, quello che ti fa stare sempre sul pensiero è questo. Vedere una squadra che durante la settimana vede e cresce in quello che deve fare, con personalità, con voglia, con attenzione, fino al giorno precedente e poi magari fare delle prestazioni del genere, questo è quello che lascia un po' perplessi, però un allenatore deve sapere entrare soprattutto nella testa dei giocatori e quindi questo è un momento dove bisogna entrare nella testa dei giocatori più che nelle gambe, perché poi l'ho detto anche loro, ma lo sanno e lo sanno tutti, giocare a Foggia non è come giocare in un'altra parte, avere responsabilità di vincere a Foggia non è come stare in altre parti, quindi se abbiamo questa ansia dobbiamo togliercela il più possibile, prima possibile, perché poi dopo se non abbiamo un po' di spensieratezza, un po' di, l'ho detto oggi, sana incoscienza nel fare le cose, è normale che resta tutto difficile, quindi questo sicuramente è il pensiero più grande che mi sono portato dietro, vedere una squadra che in settimana era in crescita, come ho testimoniato e lo ribadisco, e poi rivedere e fare delle prestazioni così. Aver capito cosa sia successo sicuramente sarebbe aver risolto i problemi forse, quindi la troppa ansia, non so, il troppo obbligo di fare risultato, perché il risultato pieno ci avrebbe dato uno slancio importante sotto tanti aspetti e quindi siamo rimasti un po' così sulle nostre, non lo so, però devo dire che faccio fatica a darmi una spiegazione, perché c'erano e ci sono tutti i presupposti per poter mettere in campo e fare prestazioni per poterci tirar fuori da questa situazione, quindi è proprio questo il problema più grande, quindi dire che ci siamo un po' affievoliti perché pensavamo che prima o poi magari il risultato fosse facile da portare a casa, non lo so, se pensiamo che sia facile dobbiamo subito cambiare mentalità, ma sono convinto che non è nella testa dei ragazzi, però a volte capitano delle situazioni che si fa fatica, faccio fatica a comprenderlo, ma faccio fatica io come credo qualunque altro, forse mio collega in alcune situazioni, a volte per risolvere questi problemi non ci sono soluzioni, ma ci sono solo fatti da fare in campo, quindi domani abbiamo una prova, abbiamo una possibilità per poterlo fare. Noi abbiamo il nostro modo di pensare, l'ho detto, siamo ripartiti con un 4-3 come base e quindi stiamo portando avanti questo, poi in base a chi incontreremo sicuramente possiamo fare qualche accorgimento, però credo se guardiamo solo l'aspetto modulo avremmo potuto giocare anche con un 10-1, un 9-1 domenica o a Torre del Greco, ma non sarebbe cambiato forse il risultato, quindi non è tanto questo, però sicuramente magari qualcosa potremmo rivedere, però il nostro modo di pensare è questo, non possiamo sicuramente per caratteristiche prescindere dai tre davanti, per scelte fatte, e quindi porteremo avanti questo concetto. Sono e siamo in una condizione dove devo valutare tutto, sono disposto a valutare tutto, questo è chiaro, perché il bene poi è comune del Foggia, non è né del sottoscritto né di Schenetti o di altri diretti interessati, quindi stiamo valutando, per ora non è ancora nei convocati, può darsi che domani sia nei convocati, quindi dobbiamo fare delle valutazioni ben precise, ma ripeto, questo per il bene del Foggia, perché sì sono successe tante cose, se ne sono dette tante, però poi dopo quello che conta è il campo, e quello che conta è l'atteggiamento e quello che conta è il bene del club. Io sto vedendo gente in questo momento che sono dentro al campo di gioco, quando ci alleniamo, quando facciamo situazioni, che hanno voglia di fare. Schenetti è uno di questi, non è riuscito a andare via a mare nel mercato, è rimasto in rosa, e quindi stiamo valutando alcune situazioni. Io quando sono rientrato ho fatto delle dichiarazioni, non le rinnego, però credo da persona intelligente valuto tutto, e valutare tutto significa per il bene di questa situazione, per il bene del Foggia, fare alcune scelte diverse da quelle che uno poteva pensare, non lo so, vediamo. Quindi rimane aperta la pista Schenetti, rimane aperta la pista di Noia, che tra l'altro è infortunato, quindi dobbiamo completare la lista e vedremo. Schenetti, come tutti gli atti, l'unico che non si sta allenando in questo momento, o perlomeno fa differenziato, è Di Noia, che ha un problema muscolare, per il resto gli atti sono tutti effettivi dentro. Proprio per questo valuto l'atteggiamento che stanno avendo, nonostante le scelte, o perlomeno le parziali scelte fatte fino a questo momento, quindi valuteremo. Nobile ha avuto un attacco influenzale l'ultima partita, come l'ha avuto Tascone, che poi l'abbiamo recuperato all'ultimo per la partita scorsa. Nobile non si è riuscito a recuperarlo, e quindi rientra Nobile perché si è allenato regolarmente con noi. Embalo ancora in disparte, che sta smaltendo un problema, e quindi indisponibili per ora fisici sono Di Noia e Embalo. Una squadra che ha cambiato, al di là di aver cambiato la guida tecnica, ha cambiato qualche caratteristica in campo, ha cambiato modo di giocare, sono passati da un 4-4-2, un 4-2-3-1, a un 3-4-3 in questo momento, con caratteristiche ben precise, è tornato un allenatore che conosce l'ambiente, che conosce la piazza, e quindi nonostante abbiano una classifica, magari in questo momento in ritardo peggio di noi, però è una squadra viva, una squadra che gioca, una squadra che ha idee, una squadra che produce, una squadra che ha messo in difficoltà nell'ultima partita il Catania fuori casa in 10, l'Avellino in casa, e non ultima la Juve Stabia. Il dato negativo di questa situazione per loro è che hanno raccolto un solo punto facendo tre ottime partite, questa è la verità, quindi se pensiamo di trovare un monopoli che sia, perché è dietro di noi, in difficoltà, o che sia un po' così dismesso, faremo un errore grande, al di là delle essenze che hanno, che sono essenze importanti. Vorrei stemperare un po' queste tensioni, queste ansie, è sempre una partita di calcio sostanzialmente, se andiamo in campo con la paura è normale che diventa una scalata difficile da fare, ma come ho detto dobbiamo avere un po' di libertà mentale nel voler fare le cose, di sana incoscienza, e questo ci porterà a fare quello che dovremmo fare. Per il resto, ogni partita ha una storia a sé, a Torre del Greco abbiamo dimostrato di non essere stati all'altezza, questo è chiaro, però ci sono partite e partite. Forse Torre del Greco è una di quelle, per quanto riguarda la mia gestione, poche partite dove non abbiamo dimostrato di poter fare risultato o di voler fare risultato, poi a volte non ci siamo riusciti, a volte no, ma questo va al di là della prestazione. Questa è stata una forse di quelle peggiori, posso contarne due forse sulle mani, potremmo metterci Caserta, per il resto la squadra credo che abbia sempre offerto discrete prestazioni, sicuramente discreto attaccamento e discreta voglia di voler fare risultato, poi non ci è riuscita, noi dobbiamo andare a ricerca di quello, se andiamo solo alla ricerca di voler fare risultato, sicuramente potremmo cadere in qualche situazione non positiva, e quindi in qualche ansia, perché poi dopo la partita è fatta di tanti frammenti e di tante situazioni, quindi dura 95 minuti se tutto va bene, se no anche di più, e quindi noi dobbiamo portarla dalla nostra parte anche magari negli ultimi minuti, quindi dobbiamo essere ben tranquilli nel voler fare la partita, sapendo che davanti abbiamo una squadra che ha voglia di giocare e che ha qualità, quindi ce la giocheremo sicuramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.